Un benvenuto ai telespettatori di Teletireno e Maremma Channel, ancora un'altra puntata di CNA News, anche questa volta, come abbiamo fatto la scorsa, torneremo a parlare di informatica, di software libero e soprattutto di reti. Dopo il Linux Day, grande successo per il 2010, realizzato l'evento in collaborazione tra CNA e Guru at Work, dunque si torna a riflettere sui temi della informatizzazione, ma in particolare sui temi legati soprattutto al divario digitale. Come è la situazione in provincia di Grosseto e soprattutto come le aziende stanno vivendo questa trasformazione. Vediamo allora che cosa ci hanno risposto i protagonisti del Linux Day. Passare al Linux dunque non deve essere un punto di arrivo per le imprese, ma un punto di partenza per scoprire quanto questo sistema può essere innovativo, versatile e migliore proprio anche per la produttività stessa delle aziende. Sì, questa appunto è una frase importante, nel senso che non possiamo considerare il sistema libero Linux o altri sistemi tipo Open Office che vengono normalmente utilizzati come un punto di arrivo per le imprese. Devono essere appunto un punto di start, uno start per cui le imprese inizino comunque a ricercare continuamente un'innovazione, un'innovazione dei sistemi che significa poi una maggiore organizzazione a livello aziendale. L'adozione del software libero sicuramente implica una riduzione delle spese per le licenze, implica comunque un sistema più stabile, un sistema aperto a cui tutte le imprese possono partecipare e anche un sistema che garantisce comunque una migliore organizzazione. Questo è un momento di crisi, noi in CNA lo vogliamo sottolineare, insomma è una delle risorse per combatterla la crisi, con piccoli passi, con piccole procedure che magari è semplicemente l'adozione di un programma come Open Office che ci garantisce comunque un risparmio, quindi ci libera risorse per altri investimenti all'interno delle nostre aziende. Una giornata come il Linux Day che stiamo affrontando in CNA vuole significare proprio questo, un'apertura comunque mentale che vogliamo dare ai nostri associati, agli imprenditori che fanno parte di CNA per capire che adottando appunto linguaggi e Open Source comunque possono risparmiare e possono ottimizzare il proprio lavoro. Continuerete la collaborazione con Guru at Work? Quella con Guru at Work è diventato ormai un connubio inscendibile, nel senso è un'esperienza che ogni anno si ripete con il Linux Day ma che già dall'anno scorso ma quest'anno ancora di più cercheremo di rafforzare anche con ulteriori iniziative, ulteriori iniziative sempre di sensibilizzazione sui temi dell'innovazione e della cultura informatica. Un grande successo dunque quello dello scorso anno ma adesso in questo caso anche nel 2010 si parla di risorse libere, si parla di software libero, si parla soprattutto della capacità di diffondere una cultura diversa, una cultura dell'informazione, una cultura della rete attraverso naturalmente in questo caso CNA e utilizzando come veicolo anche gli stessi ragazzi. Abbiamo visto tanti studenti che sono venuti ad assistere alle conferenze, a prendere contatto anche con il software libero. Insomma una manifestazione che quest'anno per la prima volta si svolge contemporaneamente in 106 città italiane e che anche a Grosseto ha visto una grande partecipazione. Questo è un segno di crescita, è un segno che veramente il software libero sta prendendo sempre più piede. Fortunatamente sì, avete visto tanti ragazzi e ne potevate vedere ancora di più nel senso che purtroppo non ce l'abbiamo fatta con la sala, per motivi di ordine pubblico più di questi non ci stavano ma la richiesta era ancora superiore. Ne abbiamo fatti partecipare il più possibile naturalmente perché da sempre gli studenti sono per noi i nostri primi partner insieme naturalmente agli insegnanti che si prendono carico di portarli qua. Abbiamo una partecipazione fantastica, abbiamo un livello anche degli ospiti particolarmente elevato quest'anno, penso ad Arturo di Corinto, penso a Raffaello Traniello di Cinellerra, abbiamo molti rappresentanti di quelli che il software libero lo vivono tutti i giorni. Abbiamo le istituzioni che come al solito ci sono vicine, siamo veramente soddisfatti. Ogni anno vediamo un livello di interesse crescente e questo per noi è la soddisfazione più grande. Insomma l'analfabetismo informatico si sconfigge? Assolutamente sì, noi ci stiamo lavorando da tanti anni, non solo noi naturalmente, noi facciamo la nostra parte e i risultati si vedono, si vedono perché abbiamo negli anni fatto anche dei corsi di formazione, abbiamo oltre 400 grossetani che sono passati attraverso i nostri corsi di formazione. Lo vediamo ogni volta che c'è Linux Day perché la mattina voi vedete il lato diciamo più conferenziere, ma nel pomeriggio noi facciamo sempre delle attività in cui installiamo Linux sui computer delle persone che ci riportano e ogni anno sono di più le persone che ci riportano e naturalmente si aggiungono a quelli che l'hanno fatto gli anni precedenti. Insomma possibilità nuove per le imprese che si avvicinano al software libero? E questo è un capitolo importante che abbiamo aperto da un paio d'anni, da quando la CNA ci ha appoggiato convintamente in questo progetto, sta funzionando, molte aziende sono già passate a software libero, molte si stanno informando, molte stanno facendo la transizione lenta, noi ci siamo insieme a CNA per dare tutta l'assistenza possibile a chi vuole fare questo passaggio nella maniera più indolore e anche più sicura possibile per quanto riguarda l'attività di impresa. La mattinata ha visto anche una riflessione, una riflessione culturale, sul punto di innovazione proprio del nostro paese, attraverso la presentazione di un libro, I nemici della rete. Arturo Di Corinto, scrittore e giornalista del Sole 24 Ore, ha presentato appunto questo volume, insomma un volume in cui si vuole cercare di fare il punto della situazione lanciando anche un grido d'allarme. Beh, una delle tesi principali del nostro libro è che finché sarà presidente del Consiglio un imprenditore della televisione sarà assai difficile far decollare la rete in Italia, ogni processo di innovazione basata su internet e sul digitale saranno rallentati perché il presidente del Consiglio ha degli interessi diversi. Però non diciamo solo questo, facciamo un'analisi delle cause del ritardo di questo paese, sono cause che riguardano innanzitutto la politica, il fatto che molti dei nostri politici da Bersani a Franceschini, da Fini a Berlusconi, sono nati in un'altra era e non capiscono l'importanza di questo strumento che in realtà è una piattaforma abilitante delle relazioni sociali sia di mercato che professionali e personali. E soprattutto ricordiamo nel libro che esiste un'Italia che non viene ascoltata, non viene rappresentata dai media, ma che è un'Italia di innovatori che con la rete, grazie alla rete hanno prodotto strumenti nuovi e utili e hanno creato delle economie che non sono assolutamente virtuali ma che permettono alle persone di vivere e guadagnarsi la conoscenza e la stima di quelli che gli stanno intorno. Si riuscirà ad avere l'accesso libero da parte di tutti alla rete quando naturalmente le strutture anche di rete lo consentiranno? L'accesso alla rete in teoria è libero, non è libero perché nel nostro paese viviamo una situazione paradossale, il 36,5% della popolazione è analfabeta funzionale che significa che un italiano su tre non è in grado di capire e interpretare correttamente il catenaccio di un quotidiano, cioè il titolo di un articolo di giornale insomma, non è capace di riempire da solo un modulo postale e così via, perché hanno imparato a leggere, fare di conto eccetera quando sono stati a scuola ma poi non praticando più queste attività le hanno dimenticate, questi sono gli analfabeti funzionali, in Italia sono uno su tre, queste persone difficilmente si metteranno un computer in casa con una tastiera QWERTY attraverso cui digitare delle parole per cercare su internet notizie, informazioni, film e libri, allora se non affrontiamo direttamente questo problema dell'analfabetismo di base e dell'analfabetismo funzionale nel nostro paese è inutile che ragioniamo sulla banda larga, certo la banda larga è un problema, è un problema soprattutto per quei professionisti che non potendo accedere alla banda larga nei loro paesi sono penalizzati rispetto alle loro attività quotidiane, perché è ovvio come le autostrade hanno aumentato la produttività del nostro paese, la banda larga aumenta la produttività di chi lavora nella società dell'informazione, ma se non hai la banda larga e continui ad andare sulle mulattiere dell'informazione, se hai ancora il cavo di rame, il vecchio modem, è chiaro che la tua produttività sarà più bassa dei tuoi concorrenti, quindi c'è un problema serio anche di democrazia da questo punto di vista. Abbiamo dunque indagato quello che è il divario digitale anche in provincia di Grosseto, abbiamo sentito diversi protagonisti, il presidente della provincia, il direttore della CNA, insomma elementi che ci hanno confermato come effettivamente anche la provincia di Grosseto stia cercando di dare il servizio della banda larga un po' in tutto il territorio. È inutile che vi sia il software, è inutile che vi sia internet se non vi è anche l'autostrada informatica che consente un collegamento rapido. Grazie ancora per l'attenzione, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci con i programmi di Teletireno e Maremma Channel.